Luciano Moto, il più grande showroom d'Europa, non poteva non stupirci anche qui all'automoto retro con uno stand davvero mozzafiato che ci racconta tutta la storia di Indian perché partiamo davvero dai primi modelli dei primi 50 anni della storia di questa moto pazzesca fino a quelli più moderni che mantengono comunque sempre questo sapore retro meraviglioso tra le altre cose dovete sapere che Indian ha da poco compiuto 120 anni non abbiamo potuto festeggiare in tempi più difficili ma quest'anno Luciano Moto ha proprio deciso di dedicare tutto questo stand a questa casa meravigliosa per i dettagli, per le informazioni naturalmente più tecniche passo la parola a chi davvero sa ogni dettaglio per cui passo la parola ad Atos Grazie Federica, ciao a tutti voi amici centauri come già appunto anticipato siamo qua per festeggiare i 120 anni di Indian fra i marchi più vecchi al mondo per quanto riguarda la produzione di motociclette e qua siamo con l'FTR, il 1.2 anniversary che festeggia proprio le 5 vittorie consecutive nel mondiale flat track per cui 5 anni di fila Indian si è dimostrata vincente appunto in questa competizione da noi e qua in stand trovate tutta la gamma perché l'FTR non è soltanto moto da flat track ma c'è anche la naked sui cerchi del 17 di cui abbiamo ancora una unità disponibile carbon air in serie limitata alle mie spalle poi arriviamo nel touring saltiamo appunto nelle moto più comode che regalano davvero sensazioni indescrivibili quindi vi invito a venirci a trovare per provarle qua abbiamo la Chieftain con una tinta Icon in serie limitata che richiama proprio le moto degli anni 40 regala davvero delle sensazioni esagerate perché è una turistica che si guida davvero senza alcun tipo di sforzo c'è poi la limousine proprio di Indian passando per le moto a batteria per i bambini più piccoli che è la Roadmaster per cui anche qua tutto un sistema di intrattenimento a video per quello che è appunto la musica potete viaggiare tranquillamente ascoltando musica dal vostro telefono o semplicemente la radio con il navigatore anche queste sono tutte quante disponibili per la prova Indian poi come al solito ha la Scout dico come al solito perché sono oltre 100 anni che c'è la Scout a listino Indian che è una custom a tutti gli effetti però che regala prestazioni da naked avendo appunto 100 cavalli è una moto che in un attimo raggiunge i 200 km orari e permette davvero di godervi la strada anche con la guida sportiva assolutamente abbiamo poi la nuovissima e attesissima Chief Bobber 2022 che regala il Big Twin Indian che è quasi 1900 cm3 di cilindrata però montati sotto un telaio davvero molto molto easy e maneggevole e anche qua potete venirla a provare da noi a Casalgrasso in via Circonvallazione 49A e vi ricordo amici centauri di visitare il nostro sito che è lucianomoto.com dove potrete appunto vedere tutte le nostre moto il sito è aggiornato in tempo reale e potete acquistarle spendendo soltanto la metà con la nostra inimitabile operazione 50% vi aspettiamo numerosi a Casalgrasso e a Cuneo in via Veceglio 6